Adesso è saltato fuori, intanto hanno violato gli accordi di Minsk e gli ucraini perché c'era la lingua russa. Il Donbass è stato bombardato dieci giorni prima della guerra, non lo sapevo, dagli ucraini, secondo, quindi chi è che ha dichiarato guerra? Terzo, l'America lo sapeva già perché gli ucraini erano armati fino ai denti, non con le nostre armi che non si sa come sono arrivate, dove sono arrivate, cosa è arrivato. Altra cosa ingiusta di questa guerra è che non ci viene detta la verità, sono stati secretati tutti i documenti, quindi non sappiamo cosa, quando, come, perché, sappiamo poco. Come ti ho già detto i giornalisti non raccontano nulla, non sappiamo nulla, fanno quello che possono ma gli dicono di andare via quando vanno sul campo di battaglia per ragioni di sicurezza. Comunque non sappiamo niente di quello che succede, esiste la propaganda, sia da una parte che dall'altra, noi viviamo nella propaganda NATO, America, quindi propaganda filo occidentale, consumista, globalista, ok? Quindi l'America, insomma la propaganda, l'America, qual è il nemico giurato dell'America? Dai ragioniamo!